Ciao a tutti amici di Priva Cars Ancesario, oggi vi presentiamo una fantastica opportunità, una Toyota Yaris 1.5 Hybrid, 5 porte e active del 2018, in un elegante colore bianco pastello. Scopriamola insieme! Toyota Yaris è stata immatricolata a novembre 2018 e ha percorso 77.000 km. Tutti i tagliandi sono stati effettuati presso il centro ufficiale Toyota, con l'ultimo tagliando eseguito a 64.249 km il 27 settembre del 2023. È stata sempre curata da un unico proprietario, il che testimonia la sua buona manutenzione e affidabilità. Il blore bianco pastello dona alla Yaris un look fresco e moderno, rendendola perfetta per chi desidera un auto che si distingue per eleganza e semplicità. La linea dinamica e compatta della Yaris è ideale per muoversi agimente nel traffico urbano. Per quanto riguarda gli optional esterni, troviamo il sistema di monitoraggio pressione e pneumatici e la telecamera posteriore di assistenza al parcheggio, che rendono ogni viaggio più sicuro e comodo. Il stato degli interni è veramente meticoloso. Per quanto riguarda questa autovettura abbiamo il line assistente e il sistema di anticollisione. Il volante è perfetto, non c'è nessun danno da segnalare. Abbiamo domandi sul volante, abbiamo un display analogico e digitale. Il sistema di infotainment è completo, con sistema di navigazione e informazioni sul viaggio. Il clima è di zona automatico, il cambio automatico a variazione continua. E abbiamo anche due modi di guida, l'Ecu Mode e l'Evu Mode Drive. Questa Toyota è dotata di numerose funzionalità che rendono la guida sicura e piacevole, come il sistema di infotainment, il controllo di stabilità e il cruise control. Inoltre, essendo un veicolo ibrido, vi permette di ridurre le emissioni e risparmiare i sui costi del carburante. Dateci subito per maggiori informazioni o per prenotare un test drive e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le nostre offerte esclusive. Grazie per averci seguito, ci vediamo alla prossima!